Salve a tutti, allora finalmente ho risolto il problema dei driver mancanti su Windows 10 sul mio tablet media con W910 ma questo sistema dovrebbe funzionare anche su molti altri tablet con Windows 10 che hanno questi problemi quali sono i problemi che avevo e che avevano anche tutti gli altri utenti che avevano questi WinPad con Windows 8.1 aggiornato poi a Windows 10 allora mancava l'audio, mancava il simbolo della batteria, il touch non funzionava e anche i driver della scheda video non erano adatti ovvero vedevo proprio un rallentamento sia in fase di avvio sia nell'utilizzo delle applicazioni un po' più pesanti ho risolto il problema in un colpo solo grazie a Driver Booster che finalmente mi ha trovato dei driver aggiornati fino a pochi giorni fa invece non trovava nulla allora io ho usato Driver Booster 2 però adesso c'è la versione 3 quindi cercate Driver Booster 3 Free programmino gratuito, trovate subito il sito ufficiale, lo scaricate e lo installate e lo richiamate questo in automatico si occuperà di trovare tutti i driver più aggiornati e vi risolverà automaticamente il problema per dimostrarvi che funziona allora simbolino dell'audio finalmente apparso e anche la batteria che attualmente è in carica vedete touch come potete vedere adesso funziona eccolo qui e anche la reattività è migliorata sicuramente anche il trascinamento delle finestre vedete molto più fluido prima mi scattava e anche lo spegnimento e l'accensione finalmente sono fluidi quindi se avete anche un altro tablet con Windows sicuramente non fa male scaricarsi Driver Booster 3 Free e fare una scansione dei driver cercherà di mettere tutto a posto e quasi sicuramente risolverete il problema dei driver mancanti questo su WinPad il mio modello è anche quello con 3G se avete altri tablet non è detto che funzioni però siccome tutti i driver erano su Intel questo ha un Atom Intel Graphics Inside e vari componenti che sono comunque simili nei vari notebook ci sta che questo problema si sta risolvendo un po' per tutti un saluto a tutti